buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale oggi video che state aspettando da un pochino ovvero un mi trucco con i prodotti che ho trovato nel calendario dell'avvento allora abbiamo aperto in tutto quattro calendari dell'avvento quindi ho dovuto fare un po una selezione dei prodotti che mi piacessero di più ovviamente perché vi ho chiesto tramite un post sulla su youtube appunto sulla community se preferivate un video per ogni calendario dell'avvento quindi un video mi trucco con i prodotti di essence poi un video mi trucco con i prodotti di cateris trovati tutti nel calendario dell'avvento ovviamente e ha vinto invece l'opzione non di tanto in realtà perché è un 45 per cento contro un 26 e il resto vabbè erano le altre opzioni ha vinto un video unico in cui utilizziamo tutti i prodotti che ho preferito diciamo di tutti i calendari dell'avvento quindi direi di sbrigarci perché non voglio che il video sia eterno e di iniziare due primer come primer ne abbiamo trovati due uno di NYX che è il pore filler che ha un'azione tipo il professional di benefit non l'ho ancora provato da quando ho aperto il calendario dell'avvento e poi abbiamo l'HD active performance di catrice con un spf 30 anche questo l'ho utilizzato lo uso tutti i giorni praticamente e mi piace davvero tanto questa sera non devo fare nulla di particolare perché devo solo andare a mangiare con i genitori del mio compagno quindi direi che questo non è proprio il massimo perché io ve lo consiglio in delle occasioni quindi comunque speciali siccome c'è anche il dimeticone che non è che non fa benissimo alla pelle però va comunque a stringervi i pori quindi meno lo usate a parer mio meglio è quindi andiamo ad usare un primer di questo tipo che è più leggero andiamo a prelevare con il contagocce di solito poi lo metto qui sul dorso della mano una quantità minima è davvero molto leggero come primer non lo sentite sembra una crema idratante questo è un profumo un pochino più forte però è molto carino secondo me è più adatto a chi ha una pelle secca piuttosto che mista come la mia però vi devo dire che in realtà se asciuga bene non è che mi appesantisce la pelle o cose di questo tipo quindi comunque insomma per adesso mi sta piacendo molto come primer fondo tinta non ne abbiamo trovato quindi io vado ad utilizzare il match perfection di Rimmel London anche questo ha un SPF 20 che è sempre importante non solo d'estate quindi ricordatevelo sempre il mio colore se vi dovesse interessare questo è un colore un pochino più estivo cioè già scuretto è 100 iron tinta messo e ha una coprenza media diciamo anche dalle labbra potete vedere che ha coperto ma non tantissimo andiamo ad utilizzare l'unico correttore che abbiamo trovato tra tutti i calendari dell'avvento che è di Catrice ovvero il One Drop Coverage Weightless Concealer che è questo qui in drop il colore che abbiamo trovato è 005 light neutral che in realtà in questo momento è leggermente chiaro persino anche per me è difficile trovare un correttore nei calendari dell'avvento quindi io sono contenta di averlo trovato però una persona che ha una carnagione un po' più scura già della mia è un prodotto in meno che può utilizzare perché è molto molto chiaro questo correttore è un correttore full coverage e l'ho provato qualche volta e mi sta piacendo vi ripeto l'unica cosa che non mi piace di questo correttore è l'applicatore perché comunque essendo in drop cioè va a finire che per applicarlo dovete usare le dita un pennellino quindi su questo non sono molto pro come cipre abbiamo trovato la All About Matte di Essence questa qui appunto traslucida che in realtà vi ho già fatto vedere sul canale perché io la uso spesso e mi piace molto quindi non andremo ad utilizzare lei questa volta poi abbiamo trovato di Catrice la Prime and Fine Luminizing Powder questa qui che anche questa è leggermente no anche questa questa è leggermente colorata come vedete non andiamo ad utilizzare neanche lei perché non amo le cipre comunque luminose quindi per ora saltiamo poi abbiamo trovato la Peach Perfect di Too Faced e la cipre di Hourglass non ho mai provato nessuna delle due sono ancora chiuse quindi per l'occasione siccome non devo fare nulla di che vi ripeto andiamo ad utilizzare la Peach Perfect di Too Faced che sono molto curiosa di provare vabbè all'interno è così come le classiche cipre non ha l'aretino ovviamente ha soltanto i fori per il mio parere personale il profumo non è fastidioso diciamo poi dipende anche quanto cipre mettete perché secondo me ne mettete tanta magari dopo un po' inizia a darvi fastidio la cipre è leggermente rosata ma ho come l'impressione che sia dolciastra perché mi arriva qualcosa in bocca di dolce vabbè comunque non vedo grossi problemi di pori cose di questo tipo e non avendo utilizzato un primer diciamo che andasse a chiudere i pori vuol dire che la cipre ha levegato bene quindi mi piace molto onestamente mi piace davvero tanto allora per bronzer contour e cose di questo tipo non abbiamo trovato assolutamente nulla quindi lo vado a fare fuori camera come blush abbiamo trovato due blush diversi una è di Catrice nell'edizione limitata del calendario dell'avvento è questo colore molto scuro un po' binaccia diciamo se riesco ad aprirlo poi è meglio questo colore qui molto carino in videocamera non rende perché sembra rosato ma in realtà dal vivo è un colore binaccia nel colore C01 Blushing Excitement e poi abbiamo trovato di Essence Matte Touch Blush questo qui io ne ho già uno ma ho scelto un colore malva per me per esempio questo è un colore pesca quindi 10 Peach Me Up questi li ho già provati e salvo 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 comunque non sono io se non faccio cadere qualcosa in un video vabbè comunque quelli di Essence li ho già provati quindi proviamo insieme questa di Catrice che non l'ho mai provato pennello magari e io direi che ne volevo prendere poco ma magari non è super scrivente come sembra però andiamo allora facciamo così momentaneamente perché mi sembra molto pigmentato oddio qua ho un bellissimo brufolo che vi saluta molto caldamente e oh mio dio allora bello pigmentato come colore adesso lo andiamo un po' a sfumare se no sembra che mi sembra di essere riduce da una giornata al mare di essere più stionata sfumato e vedete che va ad amalgamarsi meglio con la pelle però mi piace molto cioè allora a parte il fatto che è molto pigmentato quindi penso che lo finirò nel 2022 però è super bello cioè mi piace davvero davvero tanto per ora tutti i prodotti che abbiamo provato mi stanno piacendo molto l'unica pecca appunto del correttore è solo il dosatore però come prodotti in sé mi stanno piacendo molto favolo ci ho pensato adesso ragazzi allora abbiamo trovato un sacco di illuminanti nei calendari dell'avvento solo che tre non li posso usare perché non ci ho pensato prima e sono in crema e sono in crema quindi abbiamo due burn to glow di NYX in realtà uno nella colorazione glim che è la più scura e sunbeam che è quella più chiara ve li ho swatchati qua così li vedete questo è quello più chiaro questo è quello più scuro sicuramente avrei usato quello scuro però erano davvero belli mi dispiace perché avrei voluto provarli però va bene e l'altro prodotto era il golden dust highlighter di catrice in drop questo qui l'ho swatchato qua questo qui sono tre colori molto diversi questo è bello scuro bronzo questo rosa questo dorato quindi avevamo molta scelta ma mi sono scordata avevamo l'essence pure nude questo illuminante qua che è 40 be my sunlight illuminante cotto che non andremo ad utilizzare perché lo uso praticamente tutti i giorni lo sto usando davvero tanto molto molto bello però per lo scopo del video passiamo oltre poi abbiamo di catrice il powder highlighter c01 soft candle light non so se avete visto qualcosa che è questo anche questo l'ho già provato mi piace davvero molto ed è wow quindi lo teniamo un attimo in sospeso palettina sempre di catrice luminize questa qui che è definita come highlighter cioè illuminante e illuminante bronzer ma non mi sembra molto comunque ve li faccio vedere qua e sono questi tre molto soft questa la scarterei per oggi anche se l'ho provata poco rispetto alle altre però passerei oltre anche con questa l'ultimo è il super glow di Natasha Denona quello che in molte hanno trovato rotto che è questo qui con un pack specchiato io per fortuna l'ho trovato integro questo qui molto soft quindi l'indecisione è su questi due però facciamo dalla parte uno dalla parte l'altro così li usiamo tutti e due così riesco a farveli vedere entrambi allora iniziamo facciamo così io li applico e poi vi dico intanto fate le vostre considerazioni ne applico uno qui e uno qui e voi provate a indovinare dove ho applicato uno e dove ho applicato l'altro ok andiamo questo è il primo wow 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 sul naso ragazzi poi ne metterò uno solo perché se vado allora se sto così si vede poco ma se mi giro wow adesso lo andiamo a sfumare ovviamente perché non è che possiamo andare in giro così però andiamo mamma mia tra tutte e due è una bella lotta e questo è un po' è un po' diciamo sfigato perché non ha la resa fantastica a causa del mio brufolo comunque questo è l'altro colore ora li ho sfumati entrambi questo è uno e questo è l'altro ditemi voi quale è quale secondo voi e adesso vi do la soluzione questa Catrice e Natasha Denona Natasha Denona è questo e questa è Catrice per farvi capire molto belli entrambi questo ho dovuto sfumarlo un pochino di più perché tendeva ad essere molto forte ok lasciamo un attimo in stand by passiamo agli occhi quindi iniziamo con un primer ne abbiamo trovati due uno è di Catrice il Eye Foundation questo qui che sto usando da un po' di tempo e mi ci sto trovando davvero davvero bene e poi abbiamo il NYX HD Studio Photogenic che è questo qui siccome l'avevo mai provato andiamo con quello di NYX ok allora colore color carne mi sembra mi sembra molto appiccicosiccio quindi bene perché gli ombretti si aggrapperanno meglio però onestamente così a primissima impressione perché appunto non l'ho mai provato prima di oggi quindi vi direi una bugia mi piace di più quello di Catrice così a colpo d'occhio adesso è il momento delle palette di palette ne abbiamo trovate un pochino quindi ora vi faccio vedere per Catrice abbiamo trovato la Superbia volume 1 che è questa palette qui che vi ho fatto vedere che sugli occhi non ho ancora provato ma non useremo lei poi abbiamo trovato la palette sempre di Catrice che aveva il pack rovinato forse così riesco a farvelo vedere vedete quanto è rovinato che non ho mai swatchato appunto perché la tengo per un giveaway che è questa qui che è la Blazing Bronze questa appunto è nella mia scatola giveaway poi avevamo la Superbia volume 2 sempre di Catrice e anche qua c'è il pack rovinato come vedete come vi dicevo appunto nel video anche questa non l'ho swatchato durante il video perché la tengo per il giveaway non useremo neanche lei e poi rimangono queste due palette allora io avrei voluto tanto utilizzare la ruby di Uda Beauty che è questa qui però se vi interessa vederla ve la faccio vedere in un altro video perché magari da lì può sembrare del colore della maglietta più o meno ma in realtà i colori sono rossi quindi non mi sembra il caso di andare in giro così anche perché con questa palette vorrei fare un look particolare quindi un look un po' extra e quindi se vi interessa me lo fate sapere che facciamo un video proprio su questa palette con un look un po' più fuori dalle righe con questa quindi per oggi proviamo questa di Essence che è la Follow Your Heart che sull'occhio non ho mai provato ancora quindi sarà una sorpresa anche per me ed è questa qui usiamo questo per la piga dell'occhio e vediamo anche un po' com'è la pigmentazione di questi ombretti allora mi sembra che stia scrivendo molto anche fin troppo no però mi sembra che stia scrivendo molto e lo andiamo a sfumare appunto in tutta la palpebra sfumati bene e il risultato iniziale è questo adesso andiamo con questo colore che è il più scuro che si chiama Chocolate no Chocolic ok va bene e lo andiamo a mettere alla fine dell'occhio qui ok e lo tiriamo anche verso l'alto allora ok lo andiamo a mettere nella palpebra nella piega in questo modo vado ad uscire un po' effetto gattina all'incirca e poi lo sfumiamo un pochino perché non voglio avere questa cosa netta ok mi sembra che si fondano bene tra di loro allora volevo provare ad utilizzare questo shimmer che è un grigio marrone da mettere qui alla fine dell'occhio quindi iniziamo con questo come si comporta allora il pennello il pennello mi sembra che abbia preso prodotto quindi vediamo un po' oh oh avate essence sta scrivendo benissimo wow allora andiamo a metterlo anche all'interno non lo faccio mai di solito però cioè comunque sta scrivendo tantissimo io non ho bagnato il pennello ve lo voglio far vedere anche swatchato perché è proprio cremoso cioè il colore è questo cioè veramente molto molto bello io andrei a prendere questo colore qua dalla ruby di uda che così usiamo qualche colore di entrambe e lo mettiamo qua al centro ok col dito diciamo che è decisamente meglio ha dei riflessi molto rosati rispetto alla cialda sembra un po' doratino cioè qua sembra un po' dorato diciamo poi in realtà è più bronzo rosa però vabbè insomma è un po' fuori dalla mia comfort zone perché non uso questi colori di solito però non mi dispiace per le sopracciglia in realtà abbiamo trovato Tris che è un brow gel abbiamo trovato anche questo 24 ore brow setter di Benefit che io ho nella versione grande e lo uso sempre quindi lo useremo anche oggi tra i due prodotti per sopracciglia andiamo a ad utilizzare il 24 ore brow setter di Benefit che ha uno scovolino di questo tipo e lo uso sempre mi piace davvero molto l'unica cosa che vi consiglio come vi dicevo anche nell'altro video non abusatene perché veramente poi non vi si scollano più le sopracciglia cioè nel senso che è come se fosse un gel per capelli quindi ve le va a fissare molto quindi se ne usate troppo vi fa effetto tipo leccata di mucca sui capelli non so spiegarvi se ci siamo capiti spero poi tornando agli occhi proseguiamo con l'eyeliner ne abbiamo trovati due uno è il Super Last Eyeliner Matte Black di Essence che è questo qui l'altro è di Tarte il Tarteist questo qui che ha anche una matita nera inclusa e in realtà il Tarteist ve l'ho già fatto vedere ma è il prodotto migliore tra i due quindi andiamo con lui eyeliner messo adesso cosa manca mascara di mascara ne abbiamo trovati un'infinità tra cui allora per Catrice il Lashes to Kill Pro questo se volete vedere gli scovolini vi lascio i video perché se no non finiamo più poi abbiamo trovato di Essence l'Instant Volume Boost che è questo qua mai provato poi abbiamo trovato di Marc Jacobs questo mascara che è il At Lashed questo Pat McGrath che abbiamo il Fetish Eye mascara che invece è questo qui penso che faccia riflesso e poi abbiamo trovato quest'ultimo che è quello che andiamo ad utilizzare di Milk che è il Cash mascara io tu stavo volando tutto lo sto usando da un po' mi piace da morire anche lo scovolino quindi lo andiamo ad utilizzare mascara messo passiamo alle labbra anche qui abbiamo trovato un sacco di prodotti matite e labbra ne abbiamo trovate due una è di Catrice l'altra è di Essence quella di Catrice si chiama Velvet Matte Lip Pencil il colore è questo rosa Barbie che direi che non è consono questo look il colore invece della matita di Essence che è la Draw the Line è invece questo color malva bellissimo quindi sicuramente optiamo per lei prodotti labbra anche qui ne abbiamo trovati un sacco questi sono alcuni dei rossetti liquidi che abbiamo trovato sicuramente ma con questo metterei questo colore che poi è quello di Sephora aggiudicato ok la matita labbra è di un bellissimo colore andiamo a mettere questo quindi poi non metteremo nessun nessun lip gloss e cose di questo tipo perché tanto rimane brillante il rossetto è questo molto confortevole da mettere sulle labbra perché sembra un lip gloss quindi è molto molto diciamo cremoso da stendere è molto molto bello il finish è questo quindi un finish brillante non appiccica le labbra e mi piace molto come risulta sulle labbra ovviamente non è a prova di bacio non è non trasferibile è un rossetto di questa tipologia è come mettere su un rossetto matt e poi dopo mettere del lip gloss insomma altre cose avevo trovato anche le ciglia finte magnetiche di Essence le Lush On Lush Off ovviamente nel calendario dell'avvento di Essence quindi proviamo a metterle insieme tanto io le avevo già provate e vi posso dire che sicuramente se siete di fretta però volete un tocco un po' più sempre naturale però un pochino più visibile sono super veloci da mettere si presentano così e le dovete andare praticamente a staccare dalla confezione quindi queste due capire quale è sopra e quale è sotto ma dalle calamite diciamo lo vedete non sono ciuffetti interi sono da mettere alla fine delle ciglia posizionano sopra le ciglia naturali così verso la fine e poi si va a prendere l'altro ciuffetto se riesco a prenderlo è una cosa buona e giusta vado con l'altro tenendo ben aperto l'occhio e le posiziono e poi si attaccano da sole effettivamente non c'è una grandissima differenza se voi notate proprio verso la fine sembrano un pochino più folte sicuramente si nota di più quando non siete truccate con un eyeliner così grosso però sono comunque belle mi avvicino anche così vedete appunto le ciglia non danno assolutamente fastidio come le ciglia fint se volete una cosa super veloce io vi straconsiglio queste magnetiche assolutamente ok ultimo step e poi abbiamo finito lo spray fissante allora come spray fissante in realtà abbiamo trovato soltanto questo il prime p studio hd hydra di essence con acqua di cocco anche questo lo sto usando da un po' e dico che mi piace anche perché io uso sempre la versione matte e questa è un pochino più idratante e in questo momento in cui la mia pelle diciamo necessita sono contenta di poter utilizzare cose diverse nulla quindi aspettando che si asciughi questo bellissimo setting spray io vi ringrazio per aver visto questo video se siete arrivati fino alla fine commentate con un pacchetto regalo un pacchetto regalo così già ci avviamo verso il giveaway riesco anche a capire chi arriva fino alla fine dei dei video chi no chi mi segue di più chi mi segue di di meno insomma poi nessuno è costretto ad arrivare fino alla fine dei video per l'amore del cielo però se siete arrivati fino a questo punto fatemelo sapere con un pacchettino vi lascio qua l'immagine e per il resto nulla spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciate anche un like non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e anche prestissimo con un nuovo giveaway ciao ragazzi un bacio grazie a tutti